Il quinto lotto della superstrada L'Aquila Matrice si farà, lo ha deciso il Tarra Abruzzo che ha concesso la sospensiva in relazione allo stop che era stato imposto dal Ministero dell'Ambiente. Il di Castero con un decreto aveva stabilito che il quinto lotto era da soggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel mirino anche il parere con il quale la Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale ha stabilito che il progetto non può essere valutato in maniera indipendente dallo straccio centrale del quinto lotto. Tutti atti che erano stati impugnati da ANAS, Comune di Montereale, Regione e Ministero della Cultura. Il Tarra ha dato ragione e ha imposto al Ministero di rideterminarsi. Sul completamento dell'opera incombono le tempistiche dettate dal PNRR. Lo stralcio va terminato entro il 2026. A disposizione ci sono 22 milioni per il tratto Piedicolle-San Vito. Quello successivo prevede la Galleria di Aringo fino al confine con il Lazio. Il Tarra sottolinea che il primo stralcio presenta differenti tempistiche di avvio dei cantieri e diversa fonte di finanziamento rispetto al secondo. Un risultato importante per il territorio, per l'Alto Aterno, per le aree interne, un risultato che premia chi lavora con determinazione quotidianamente. ANAS ha fatto un lavoro straordinario in tempi rapidissimi. Basti pensare che per il terzo e quarto lotto abbiamo dovuto attendere 30 anni. In questo caso sul quinto lotto in tre anni siamo riusciti ad ottenere i fondi tramite la regione e l'ufficio per la ricostruzione. Siamo riusciti a fare la progettazione e siamo riusciti a mettere a terra questi soldi se non ci fosse stato questo problema rispetto a questo parere dato dopo nove mesi. Il Tarra ha riportato un po' sulla retta via il Ministero ordinando di rideterminarsi entro 15 giorni. Quindi l'udienza ci sarà il 27 nel merito ma abbiamo grandissime speranze anche perché ieri sera ho avuto modo di parlare con il presidente Marsilio e mi ha detto che già è intervenuto presso il governo affinché insomma si rideterminano in maniera positiva.